A Belli! Ciao Kiki! Allora, io sono qua per una nuova puntata di Mangia Bene, Mangia Sano Te lo dice un marchigiano Con Antonio Locascio noi stiamo girando l'Italia con questo format Io e il mio regista Demi Starsi Ma abbiamo voluto cominciare proprio dalla mia regione, dalle marche Perché? Perché le marche sono quelle che io amo come amo tutta l'Italia Perché devi sapere, cara la mia Fiorella Che se magna bene dappertutto Ma come se magna in Italia Non se magna bene da nessuna parte Allora, sono di nuovo qui alla chiusa da Carola Con Fiorella, che è la capitana di questo bellissimo locale Con il quale collaborano i suoi figli È uno staff incredibile E soprattutto, io ho voluto cominciare questo reportage da qua Perché qui si mangia veramente casareccio Oggi facciamo il... Coniglio alla cacciatura Coniglio alla cacciatura Allora, io vi faccio una breviera Ma ve la faccio con tutto il cuore Il coniglio Il coniglio Innanzitutto è una carne bianca Come ogni carne bianca È una carne che per chi ha problemi di colesterolo Per chi ha problemi di pressione Va benissimo Però, visto che esistono ancora i conigli di casa Cercate di comprare un coniglio di casa Anche se E questo adesso ve lo faccio dire da Fiorella Anche se Il coniglio è un animale che va custodito bene Cosa gli si fa al coniglio? Una volta che è morto Scusato E tutto? Allora, noi lo prendiamo Lo tagliamo tutto a pezzi Lo laviamo per bene Facciamo tutti i pezzi di questa grandezza Un po' più piccolini Pezzi un po' irregolari Poi lo mettiamo in una padella Con dell'olio Del rosmarino e dell'aglio Lo facciamo rosolare bene Perché il coniglio deve essere rosolato bene Poi aggiungiamo i pelati I pomodori pelati Aspetta un attimo Allora Padella Olio Rosmarino Aglio Aglio Con la camicia Con la camicia Aglio con la camicia Lo facciamo rosolare bene Rosolare, non cuocere Rosolare No, rosolare bene Una volta che è bello rosolare Che fa per capisce La crosticina Ecco Perché ci guardano anche quelli Che l'unica cosa che sanno Fanno da maniare E la carne simbile Allora Lo facciamo perché Se uno di questi Gli ha voglia Le fanno una ricetta a casa Allora Che cosa succede? Che una volta che fa Rosolare Vuol dire che ha la crosticina Che fa la prima crosticina marrone Via Brum Ci buttiamo I pelati Pelati E del vino Lo studiamo col vino? Sì Il vino Quanto bisogna metterne? Abbastanza Tre quarti Deve rimanerne fuori Dei coniglio pochissimo Tre quarti di padella Piena di vino Quindi ci va Abbastanza vino Perché una volta che Ha sfumato L'alcol Rimane comunque Il sapore Nella carne Dell'uva Ok? Attenzione Perché qui c'è una cosa Molto molto bella Che faccio anche io a casa mia Olio Sale E pepe Insieme Perché uno dice Ma io come mi regolo Con lo pepe Con lo sale Se mettete Se mettete Sare Questa è un'idea Che diamo anche a chi ci segue Se mettete Mezza scatola Di sale Ok? E un barattoletto Di pepe Mettete tutto insieme Poi mischiate Avrete questo risultato In modo che con una manciata Fate tutto Allora Attenzione Cottura In forno No In padella In padella Tutto in padella Una volta che cominciamo in padella Perché lo devi mettere sul forno? Tutto in padella Per quanto tempo? 40 minuti 40 minuti 40 minuti Poi uno vede Quando si tiene a fuoco medio Quando l'olio ritorna chiaro Il coniglio è pronto Il coniglio è pronto Allora Io oggi vado Nel tuo ristorante A mangiare Il coniglio Alla cacciatore Alla cacciatore Dai io Oh Che mi portiamo allora? Oggi Coniglio Alla cacciatore Quindi Alla cacciatore Quello che abbiamo preparato prima Allora Cara La mia Amiga Guardate Innanzitutto Qui di solito Io mi porto sempre Il piatto Al naso Non c'è bisogno Perché il profumo È imbarazzante Allora Abbiamo detto prima La cottura La cottura Noi siamo sui Stratutto 40 minuti Sì Una quarantina di minuti Perché il coniglio Si deve cuocere lentamente Perché se rimane Ok Però io Forse Il mio cameraman Ho sbagliato io Vi devo far vedere una cosa Allora Questa qua È la parte del coniglio Che è un pochino più dura Guardate Io nonostante Guardate Guardate Che movimento che sto facendo Guardate Eccolo qua Si è staccato In un nanosecondo Dalla Dall'osso E poi c'è l'ossicino qua Cosa significa questo? Ti avvicino Un secondo Allora Quando il coniglio Che è una carne Delicatissima È passato di cottura Qua mi fa Tutta una patina marrone Come se fosse bruciato Invece io Riesco a vedere La croccantezza del fuori Ma riesco Come vedete A poter Capire Che qui dentro Il coniglio È spugnoso Perché come massaggio Col cortello Mi butta giù L'olio Capito? Queste sono delle piccole cazzate Ma sono quelle cazzate Che parlano di cernica Che io sinceramente Quando vado al ristorante E pago Quanto lo metti tu Un piatto di questo? 10 euro 10 euro Io pago volentieri 10 euro Se è un coniglio Adesso poi lo devo assaggiare Fatto così Mi girano le palle Se pago 10 euro Per mangiare Due pezzi di carbone Con un po' d'olio Mi girano le palle Allora Lo assaggio Faccio un po' di fatica A non commuovermi Perché questo è il coniglio Che mi faceva la nonna Io qui Sto sentendo I sapori Di caldo Io ti devo fare I complimenti Perché a parte che vedo La materia prima che usi Però Non c'ho parole E fammi un po' di parole O piango O magno Magno Allora Amico mio C'è un problema Che io Con il mio regista Con il quale abbiamo fatto Questo format Abbiamo detto Che dobbiamo essere Spuderati Che dobbiamo essere E giudicare Senza Nessun Udore Quindi sarò Spuderato Non riesco A darti 10 Neanche questo piatto E' un altro piatto Da 10 più Grazie Fantastico Ragazzi Ci vediamo alla prossima Mi raccomando Venite a mangiare Il coniglio Alla cacciatora Perché è Buonissimo Poi chiude Che io devo finire A mangiare con calma Per favore Ciao Ciao Grazie a tutti